cinque paesi dove c'è più lavoro molti mi scrivono ragazzi per questa situazione del lavoro e i paesi cinque paesi migliori dove dove trasferirsi dove ci sono più possibilità lavorative è un momento molto difficile momento molto difficile dappertutto in tutto il mondo e allora quello che io vi voglio dire è questo qui consiglio ai giovani aprite bene le orecchie quello che vi dice lo zio l'ambredetto che vi do dei bei consigli l'ambredetto a questo punto di vista vi da sempre dei buoni consigli per quello che vi dico di seguirmi di supportarmi eccetera eccetera anche su patreon e su anche altre piattaforme allora dovete capire una cosa i paesi che prima si riprenderanno saranno sempre i paesi migliori i paesi che faranno fatica a riprendersi sono i paesi da questo punto di vista diciamo peggiori dal punto di vista economico per tante cose quindi questa è una cosa che dovete tenere molto presente quindi sicuramente un paese che si riprenderà subito ed è successo così anche nel 2008 nel 2000 sarà la germania ok i paesi che faranno fatica saranno sempre i paesi del sud dell'europa quindi l'italia un paese che comunque già già prima soffriva di situazioni cioè non è che l'economia cresceva così tanto quindi i paesi dove si sarà più lavoro sono sicuramente i paesi dove sempre l'economia è andata bene ha tirato i più forti sono sempre i più forti quindi da un certo punto di vista i paesi dove ti ci saranno più possibilità lavorative sicuramente sono i paesi saranno l'inghilterra saranno i paesi scandinavi saranno la germania l'austria e per quello che voglio andare a che far video anche in austria questi sono i paesi la svizzera comunque darà sempre delle opportunità questi sono i paesi dove la gente tenderà ad emigrare dove la gente tenderà a spostarsi sono le mete che sono sempre state diciamo inseguite dagli italiani poi se vuoi aprire una gelateria per esempio ti conviene andare in germania se vuoi aprire una pizzeria un locale ristorante ti conviene andare nel caucaso russo in russia ovunque io un mio amico fratello di un mio amico che ha chiuso un ristorante a san diego in america aperto delle pizzerie a mosca sta andando benissimo se vuoi aprire dell'attività ristorazione io consiglierei la russia e comunque questi sono i paesi ragazzi è inutile che facciamo il giro del fumo questi sono i paesi che ti danno e ti offrono più possibilità perché sono i paesi che prima si riprenderanno dalla crisi perché è sempre stato così ed è sempre stato così è inutile che siamo poi è chiaro che nessuno ti regala niente se va in svizzera il costo della vita è alto se va in germania c'è il problema della lingua e dell'inserimento ci sono sempre mille problemi però i prabre i paesi che più offrono possibilità sono questi paesi scandinavi l'inghilterra anche se c'è la brexit vedo invece male malissimo molto male la situazione negli stati uniti d'america li vedo veramente una situazione terribile terribile anzi so anche già di molte persone che che da new york non sto parlando di italiani sto parlando anche di americani che si stanno trasferendo nel canada ecco il canada può essere un'altra meta interessante però gli stati uniti veramente vedo una situazione devastante pericolosa dal punto di vista sociale anche se un paese che facilmente ti offre possibilità lavorative io dall'america ci starei molto lontano anzi fosse qualche italiano emigrato che sta in america vista la situazione penserei seriamente l'ipotesi di andarmene via però ripeto è una mia visione una visione l'america poi si riprenderà però diciamo che dal punto di vista economico io la vedo molto male la vedo molto male poi spero di sbagliarmi per per l'operaio di pittsburgh per l'agricoltore dell'arizona eccetera eccetera però bene una situazione dal punto di vista lavorativo molto difficile allora i cinque paesi ve li ho detto sono sempre quelli è un ragazzo giovane in questo periodo chi vuole sapendo che poi in molti paesi magari serve il tedesco serve l'inglese ma perché voi perdete tempo in ore e ore a cazzeggiare in chat a non fare nulla quando in tutto questo tempo avreste potuto imparare una professione si possono imparare professioni anche online si può magari imparare che ne so fare il pizzaiolo trovate una situazione magari dove andate a dare una mano magari anche gratuitamente ma giusto per imparare il mestiere si può imparare un mestiere ragazzi e soprattutto si può imparare una lingua gratuitamente quindi tutti questi giovani che mi seguono che non fanno altro che perdere tempo nelle loro stanzette febbi che a fare gli chikomori studiatevi una lingua imparatevi il tedesco imparatevi l'inglese se volete andare in inghilterra mi piace io vorrei andare a vivere negli stati uniti d'america e come il tuo inglese a che livello è il tuo inglese mi piacerebbe andare a vivere che ne so a santo domingo come il tuo livello di spagnolo va bene a meno che ci vai da pensionato lambre vorrei andare a lavorare in germania qual è il tuo livello di tedesco quanto è il tuo livello di tedesco mangi tedesco vivi tedesco io quando ho fatto un b1 ragazzi cioè dormivo col tedesco me lo sognavo anche di notte qual è il tuo livello di tedesco primo vuoi andare in una nazione altra cosa importante il consiglio vuoi andare in una nazione vuoi trasferirti in una nazione lambre ha detto quale sono le nazioni che oggi offrono più lavoro mi piacerebbe andare a lavorare che ne so in svezia in germania in svizia inizia a frequentare quella nazione inizia a mangiare la cultura inizia a farti amici del posto magari anche l'internet inizia a farti amici che abitano in quel posto inizia a entrare in contatto socializza con la gente magari queste persone un domani ti possono dare una mano per provare casa per trovare un loculo per trovare un posto dove stare per farti magari un curriculum inizia a frequentare l'ambiente smettila piantala di stare dalla mattina alla sera dalla mattina alla sera a cazzeggiare sul web nelle chat di whatsapp sui siti che non servono a niente smettila perché altrimenti tu farei sempre una vita alla bagno mariuccia impara un mestiere impara a far qualcosa impara un autocad impara a progettare fatti un corso fai qualcosa se hai calados esdeani faragrisci farabani se hai vent'anni ok se ne hai venticinque se ne hai cinquanta un altro paio di maniche perché altrimenti il tuo futuro sarà un futuro da bagno mariuccia quindi consiglio miei giovani imparate un mestiere studiate le lingue si può viaggiare oggi addirittura con prezzi ridicoli ridicoli in paesi dove dove non costa niente un ostello ormai ti costa cinque euro viaggiate in quei posti respirate l'aria di quei posti dove voi dovete andare poi avete intenzione di voler andare a vivere a costruire un futuro o fare un'esperienza lavorativa che può essere interessante anche l'australia la nuova zelanda sempre meglio che stare a casa a fare niente altri paesi che secondo me possono essere presi in considerazione però impara la lingua imparati l'inglese bene non a livello scolastico impegnati smettila spegni quelle chat spegni web spegni quel web dove stai lì a cazzeggiare sulle cretinate impegno impegno ci vuole impegno impegno se volete ok quindi imparate una lingua viaggiate in quei posti ragazzi questi consigli che vi posso dare ok una bacione dall'ambra benedetto ragazzi